Buongiorno ragazzi, voglio cercare di vloggare quando sono in vena perché almeno da quando sono in questa casa è vero che non vloggo più ma non c'ho proprio voglia, nel senso che vloggo nel momento in cui c'ho voglia, ve l'ho detto un sacco di volte perdonatemi però, è bello che io faccia qualcosa nel momento in cui mi va di farla nel momento in cui... ok, non avete capito 10 e 17, che cosa devo fare? In realtà c'ho la casa che non è pulita De più regà, de più! Ah, vanity completata! La mia vanity è completata e aspettate vabbè, la sotto completata per modo che questa roba deve sparire da qua, perché io qua sotto non ci voglio nulla Guardate la meraviglia della mia vanity table! Piano piano le cose si fanno e ci sarebbe molto bene un'anteprima chissà quale foto metterò in copertiva la mia vanity table è finita! Oppure la mia vanity da star! Oppure super fashion vanity! Ancora non lo so, perché mi ci vorrebbe qualcuno che mi faccia un'inquadratura molto carina sulla vanity table guardate che meraviglia! Quando spengo le luci, ovviamente, ma cieco la mattina cioè, dopo mi sembra veramente di non vederci più comunque, la vanity è finita e... aspettate, mi è arrivato un messaggio, un attimo oddio, no, che vuol dire, raga? ci sta un'altra classe che... la mamma è positiva oddio a parte il fatto che in tutto ciò c'ho sempre i fibi che mi piangono sotto i piedi quindi, raga, da quando sta dentro sta casa è diventata insopportabile ve l'ho già detto è uscita, ha fatto tutto e però lei ritorna e mi assilla perché vuole uscire di nuovo ma in realtà, a parte che è uscita già due volte ma il problema è che lei non può camminare tanto quindi una volta che io la faccio camminare un quarto d'ora, venti minuti che è pure un po' troppo, secondo quanto dovrebbe camminare lei poi deve stare un po' a riposo io mo' la riporto fuori solitamente considerate è uscita stamattina alle otto poi è uscita adesso perché sono ritornata ma la riporto fuori prima di andare a prendere Stefano a scuola quindi quando sono le tre la riporto fuori e poi l'ultima, insomma, in serata che più o meno non c'ha un orario ma molto spesso è prima di cena quindi comunque è quello però lei, niente, è un continuo mi piangono sotto perché deve uscire ma non c'è, tornata a mo' devo aprire le finestre in camera di bombolone per far cambiare un po' l'aria poi vado a far più il lettino perché sicuramente stamattina non c'è riuscito stamattina si stava a strimpella la chitarra devo andare a stendere i panni il cestino è super comodo perché solitamente me li incollavo ma volete dire che io stavo vloggando e stavo al bagno mi ero completamente a dimenticare che per voi è una zona off limits sono sicura che quando vi farò vedere sto bagno qualcuno mi dirà beh, tutto questo tempo per farci vedere il bagno in fondo non è un gran che è tutto ciò per non darmi soddisfazione oh, mazza, fa freddo dentro sta casetta stamattina di solito fa caldo comunque queste ceste ci stanno super bene qui è proprio un angoletto super carino e oltre che ci stanno bene sono anche molto utili allora, io mi sa che mi faccio una lavatrice di bianchi qui ci stanno tutti i dipinti del mio figlio guardate, ha disegnato la pimpa guardate che bravo in questo ci stanno pure i funghetti sotto non so se riuscite a vederli questo ah, questi erano corvi sul tramonto e aspettate e poi c'erano altri due là dietro che vi ho fatto vedere su Instagram questo dovrebbe essere un ponte o boh non lo ricordo sinceramente comunque mi piace molto il fatto che da quando sta qui in questi sono scatoloni qua tra l'altro da quando siamo qui lui ha ricominciato a dipingere ed è una cosa che mi piace da matti è proprio vero che comunque per creare per dipingere cioè per creare che poi possa essere dipingere o scrivere poesie o insomma qualsiasi altra cosa c'è bisogno di ispirazione e se non hai l'ispirazione eccola là che non crei io mi sa mi faccio sta lavatricetta dei bianchi perché sono tanti il vestitino estivo che poi in realtà se io uscissi la mattina alle 10 10 e mezza mi potrei anche vestire ancora estiva ma uscendo alle 8 sembra ridicola madonna ammazza i bianchi raga questo che è un canavaccio però è grigio questo va lavato a parte vabbè alla fine dei due ammorbidenti che ho preso per prova questo e questo questo è decisamente molto molto meglio questo non mi piace molto l'odore che dà sui panni questo invece è buonissimo io provo a farli a 40 perché non so tanto sporchi perché io vado tutto dei 60 gradi raga perché se no mi dai idea che però devo abbassare i giri se no quel vestitino mi si rovina facciamo così praticamente ho preso l'abitudine lo so io uso tanto ammorbidente di mettere una una pallina di detersivo una pallina con un po' di ammorbidente già dentro l'oblomodo che nel lavaggio si profuma i panni e poi un goccino dentro proprio la cosina dell'ammorbidente è vero ne metto tanto però raga madonna come mi profumano i panni non si sa allora ho fatto un sacco di cose sono quasi le tre scusate c'ho delegancy tra l'altro non ho finito neanche di vedere the original però ho provato a rivedermelo però mi annoia non so perché avrei voluto finire prima the original e poi vede delegancy però vabbè amen c'ho una stesa dei panni bianchi che prima c'erano di là ovviamente il sole ha girato quindi l'ho spostato di qua mi sono portata fibbi fuori perché stavo preparandomi per andare a prendere Stefano e invece mi ha telefonato Lillo che ci va lui ma oggi pensavo che non riuscisse a farlo perché sta lavorando molto lontano quindi mi ha detto sicuramente non ce la faccio invece si vede che ha staccato forse un po' prima del previsto hanno finito e quindi mi ha detto ci vado io quindi siccome io comunque ho finito di far tutto adesso mi posso seder finalmente a rilassarmi ecco praticamente abbasso un attimo praticamente la mia vita è questa che io corro 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 il momento in cui ho finito di far tutto che potrei sbatasciarmi devo andare a prendere Stefano quindi praticamente poi non mi riposo mai tra virgolette invece ecco adesso che Lillo mi ha detto vado io stavo già pronta sulla porta aspettare che arrivava l'ora X per andarlo a prendere invece per fortuna per fortuna insomma non è che mi pesa però ancora non mi ero rilassata quindi avevo questo cacchio di delegancy ma nel frattempo facevo 8 miliardi di cose comunque costa bellissima giornata i panni al sole so qualcosa di spettacolare non so voi ma io vabbè per voi vi sembrerà una pazzia però io ho sempre sognato di avere i panni stesi al sole perché nell'altra casa sapete non c'avevo il terrazzo cioè non c'avevo né giardino né terrazzo né balcone proprio nulla avevo i fili attaccati alla finestra e li stendevo ora l'estate mi si asciugavano relativamente presto perché anche all'ombra con 40 gradi si asciugavano l'inverno io non stendevo mai di fuori avevo sempre gli stendini dentro casa infatti chi mi segue da tantissimo tempo lo sa avevo anche due stendini stracolmi di panni soprattutto quando Stefano era piccolo mi salvavo un po' perché ogni tanto mettevo sui termosifoni quindi quelli che si asciugavano riuscivo poi a rimetterli a posto però insomma non è la stessa cosa vero è con l'asciugatrice ma non è che io tutti i santi cioè per tutto l'inverno posso fare l'asciugatrice lo faccio nell'emergenza anche perché se no veramente è uno spreco di energia incredibile e il fatto di mettere i panni stesi al sole a parte l'odore è proprio diverso col tutto che ho sempre i panni super profumati perché ci sto attenta anche a non metterli nello stendino troppo ravvicinati perché se no si asciugano male quindi cerco sempre di metterli belli larghi e di fare magari più lavatrici far asciugare magari i panni e poi stendere gli altri mano a mano perché se no puzzano comunque prendono quell'odore di umido che non mi piace invece qua il fatto di avere i panni stesi al sole ogni tanto arriva l'odore di questi panni stesi al sole non potete capire chi stende i panni al sole lo capisce per me è un sogno che si avvera lo so ma contento di poco non so come la pensate ma guardando Delegancy a parte i personaggi Alaric che io amo alla follia mi viene un po' di nostalgia pensando che non ci siano più Demon Elena anzi secondo me una piccola apparizione potrebbero anche avergliela fatta fare perché spoiler spoiler chi ha visto tutto il finale del vampiro ti fa capire che Demon Elena diventano umani si mettono insieme e vivono la lunga vita insieme quindi moriranno da vecchi siccome qui Alaric è ancora giovane le figlie idem si presuppone che Demon ed Elena siano ancora vivi quindi che stiano facendo la loro vita perché non inserirli soprattutto nelle prime puntate visto che comunque è uno spin off oppure parlarne ho visto già quattro puntate e ancora non si sono mai nominati c'è Matt Donovan che non avendo trovato il suo scopo in The Vamp il personaggio più scemo di The Vamp qui fa come si dice il fregno buffo col distintivo non mi viene va bene Summer Detective o sceriffo speriamo che abbia un ruolo un po' più un po' più figo no? perché comunque rimane un po' così e c'è sta Jeremy che mi fa molto piacere perché nel finale di The Vamp non si sapeva che fine avesse fatto Jeremy quindi mi fa piacere e spero che ci sia anche in altre puntate perché la nostalgia è tantissima però una cosa sui personaggi a parte Hope la figlia di Klaus e della lupa che è molto carina tutti gli altri personaggi raga ammazza come sono brutti no che devono essere belli perché i personaggi brutti non possono lavorare però quando vedi dei personaggi belli no ma non lo so fotogenici telegenici ti appassioni di più alla serie televisiva non so perché credo che le figlie di Alaric siano tremendamente brutte cioè non ve lo so spiegare cioè sono proprio brutte telegenici non vi dico diviso o fisicamente parlo proprio a livello televisivo non non mi piacciono a vederle a guardarli cioè quella bionda che è una stampellona lunga cioè non si muove neanche bene a livello di recitazione la moretta è un pochettino meglio però non ce le vedo come figlia di Alaric secondo me boh non lo so non mi piacciono ditemi che non so solo io che la penso così il cast boh ma pure l'omini boh 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 sembra che io sia stata qui sul divano ma in realtà no ho svuotato la lavastoviglie ho rimesso a posto tutti i piatti ho messo qualcosa in lavastoviglie e qualcosa ho lavato a mano mi sono rigirata i panni per farli asciugare bene ho portato fuori il cane e sto aspettando che tornano Lillo e Stefano siccome vanno a fare sempre merenda al mac ma col gelato non è che se prendono il panino roba simile gli ho detto se andate al mac portatemi le patatine fritte quelle grandi c'ho una voglia di patate fritte raga ma non so come me mi ha presa sta fissa da due anni a sta parte stavo riflettendo perché stavo guardando la serie però mi è venuto in mente Stefano stamattina qua al salotto come me guardo le serie io cioè guardo le serie e penso altro e gli stavo allacciando il grembiolino perché lui ce la fa da solo però qui c'ha il bottoncino questo spesso non riesce quindi gli stavo allacciando questo grembiolino e lui stavo tipo un po' inchinata e lui mi ha detto mi piace tanto stare qui mamma è stata una soddisfazione grandissima perché sapete che lui ultimamente la viveva male cioè non vedeva l'ora ma nello stesso tempo era molto spaventato diceva non voglio lasciare la mia casa la mia cameretta il mio lettino l'aveva vissuta molto male cioè quando ci pensava quando gli dicevo stiamo per andare il realizzava dalla contentezza perché comunque lui qui stava bene ovviamente però il pensiero di lasciare l'altra casa era penso normale anche a me per quanto non vedevo l'ora d'andammene alcuni momenti non voglio dire che mi manca ma mi manca quel calore di casa che c'era perché era una casa vissuta da 16 anni questa sembra ancora una casa nuova cioè è ancora nuova e oltretutto è una casa poco vissuta ovviamente anche se insomma comunque io me la vivo abbastanza però quell'altra c'aveva cioè quando io aprivo la porta c'era l'odore di casa mia qui ancora sa tutto di nuovo il divano sa di nuovo gli armati quando li apro sanno di nuovo quindi un po' fa strano sinceramente ma penso che la gioia più grande me l'ha data Stefano stamattina quando mi ha detto quella frase ragazze ieri sera ero stremata ho fatto la cena ci siamo vissi una puntata della serie poi ho iniziato a vedere il grande fratello e poi sono morta capicollata perché ero stremata mi sono addormentata mentre guardavo il grande fratello quindi ero veramente super stanca e l'aggiornamento su classe di Stefano per fortuna lui è nella sezione aggiuntiva quindi assolutamente per fortuna lui non è in quarantena mentre tutti i suoi compagni sì e i quattro che erano nella sezione aggiuntiva no non condivido onestamente questa cosa avrei messo in quarantena anche i quattro nella sezione aggiuntiva ma purtroppo non so sotto quali basi facciano queste regole speriamo che comunque insomma non ci sia nessuno positivo dei nostri bambini quindi ancora devono fare i tamponi e aspettiamo i risultati io vi do un super bacio e ci vediamo prestissimo al prossimo video a il bacio al prossimo a